Stai male? Il suo più bello però è Stai Ti sei fatto un po' male? Alla gamba eh Eccoci Adesso Sei caduto in bici? Ti ricordi come ti chiami? Non è tanto grave No, non è niente Sì, però riesce Come mi esce l'osso No, non è niente Spero bene, sì no, è andata bene È una cosa che può succedere spesso comunque Abbastanza bene, sì Potremmo migliorare però Cioè potremmo aiutarsi il più latino E potremmo parlare di più Però vabbè, adesso siamo contenti 0,2,2 Sì, infatti Immortal è il sollievo Il sollievo di questo momento Che mi ho scoperto di aver fatto una cosa buona È un po' all'inizio valutare con la scena Non si capiva bene cosa si successe L'ambulanza sta arrivando 10 minuti 10 minuti Continuiamo in la sala Continuate Eh no, abbastanza bene Questa è andata benissima La comunicazione abbastanza corretta Buongiorno Possiamo aiutare? Cosa senti? Sei rosso qua Ma cosa c'era dentro la torta? Non lo so Sono allergico agli arachidi Chiamo un attimo il 118 Oh, guarda un po' l'istica Non so cosa ho messo dietro Ti è già successo altre volte? No, è la prima volta È la prima volta, va bene E non hai farmaci con te? No, non c'è Ok Pensavo che volessi abbenenarli Eh, speriamo bene Adesso ci dicono com'è andata Sì, sono zultati nei giudici Però noi abbiamo dato il massimo Speriamo non già abbia tenuto l'emozione Difficoltà? Pensavamo che fosse un po' strano inizialmente Inizialmente poi ci hanno spiegato che era la reazione allergica Pensavamo peggio Infatti è la reazione allergica Ma forse ci siamo districiati meglio Com'è andata la prova? Molto bene Molto bene Anche con l'inglese non abbiamo avuto problemi Sembrerebbe E siamo soddisfatti Molto soddisfatti Bella anche Difficoltà? Un attimo a capire magari La ricerca del problema dell'allergia E basta Una volta capito Grande collaborazione Abbiamo lavorato bene Martina, Martina, cosa è successo? Martina, la mia bimba Martina, Martina No, no, ma è minorenne Fatemela vedere Ma cosa è successo? Martina, Martina Martina Cos'è successo? Martina Martina Signora, signora, signora si può non parlare per favore? Signora, signora 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 La mia bimba La mia bimba La mia bimba Ti senti? Signora Signora E la tua bimba senti che lei sta agitata? Ti ha agitato il meglio? Va bene Per voi va bene così? È passato un minuto La signora Cosa succede? Qui ci pensiamo noi No, è il mio marito Va bene, però è il mio marito Dunque posso stare qua vicino Fammi vedere Andiamo a casa Ma dobbiamo andare in ospedale secondo voi? È necessario La medicazione Ma ci daranno dei punti? 12 Sì Com'è andata la prova? Bene Sicuri? Sì Paura? Caldo China Po Nozione Tonto Non vi dimenticate la chiamata 112 E' un po' tantissimo Ok Sono arrivato io Mio marito Aspettiamo noi Tranquillo Per favore Ragazzi Non dobbiamo Per favore Signora Prego Per favore Venga qua Signora Via No È arrivata la mula Grazie Sta di felice Sì Secondo me sono stati bravi Difficoltà? Forse io ho un po' nella ferranda Che non sa proprio come metterla Però poi ci sono riuscita Pronti a rifarlo se vi capita sul serio? Sì Mille volte Grazie Grazie Grazie